Musica Be salve amiche, come va? Come state? Spero tutto bene Come avete detto dal titolo, oggi parliamo di un nuovo prodotto Un nuovo prodotto molto interessante Lo metteremo subito alla prova su un capello riccio all'interno di questo video E sto parlando della nuova Dyson Air Straight, la nuova piastra di Dyson Questo video è in collaborazione con Dyson, lo sapete, collaboro con loro da un po' di tempo E potete recuperare tutti gli altri prodotti usciti cliccando sul link qua Ma i pareri all'interno di questo video rimangono strettamente soggettivi E lo sapete che vi dico ciò che penso di questo prodotto Infatti all'interno di questo video vedremo le caratteristiche del prodotto Vediamo un po' quali sono le sue funzionalità di base Ma soprattutto trovate anche il tutorial e soprattutto anche quanto è durata la piega di quel tutorial Quindi un vero e proprio stress test sui capelli della mia amica Carla Che sono molto molto ricci e poi sarete voi a trarre le vostre conclusioni Come dicevo in precedenza Dyson Air Straight è la nuova piastra in casa Dyson Che permette di realizzare un liscio naturale Che cosa significa? Questa infatti non è una classica piastra con le lamine che si scaldano e vanno a lisciare i capelli Anche perché avevamo già in gamma Dyson Corral Questa non è altro che una piastra che grazie alla potenza delle ventole e appunto dell'aria Va a lisciare i capelli in modo naturale Infatti permette di realizzare un liscio naturale Come quello delle persone lisce naturali e quindi esattamente come me Ma adentriamoci subito nella tecnologia all'interno del prodotto Innanzitutto è una vera e propria piastra che si sblocca mediante questo pulsantino qua Infatti poi il prodotto si apre in questo modo All'interno troviamo diversi pulsanti Troviamo il pulsante di accensione Troviamo il pulsante wet and dry Ma ora fra pochissimo vi spiego a che cosa serve Troviamo anche il pulsante di raffreddamento Il pulsante dedicato alla velocità dell'aria E il pulsante dedicato invece al calore della piastra Può essere un valido alleato per tutte quelle persone che lisciano i capelli ogni giorno A cui piace un liscio naturale Ma soprattutto non vogliono stressare e rovinare i capelli Come prima cosa quella che possiamo notare è che la piastra può essere utilizzata anche da chiusa In questo modo Perché? Perché lungo i bracci della piastra sono presenti due aperture Voi vi chiederete subito ma qual è la particolarità di questa piastra? Quella di lisciare il capello da bagnato Significa che noi anche se abbiamo un capello magari liscio ma gonfio Quindi vogliamo tenere un liscio piatto Abbiamo dei capelli ricci Abbiamo dei capelli anche afro Perché può essere utilizzato anche sull'afro Se vogliamo appunto lisciare i capelli Non occorrerà come normalmente, come di consueto Asciugare tutti i capelli e poi passare alla piastra Quindi stressando il cappello doppiamente Perché abbiamo il calore del phone più il calore della piastra Ma sarà necessario solamente lei Perché? Perché una volta usciti dalla nostra doccia Possiamo andare a preasciugare i capelli Con appunto lo strumento chiuso E successivamente aprendo la nostra piastra Tramite appunto il pulsantino qua E posizionandolo sulla versione wet Andremo a utilizzarla sul capello bagnato Come una vera e propria piastra Passandola sul capello bagnato Andremo a lisciarlo e asciugarlo contemporaneamente Infatti posizionata nella modalità wet Ci permette di asciugare il capello a tre temperature diverse 80, 110 e 140 gradi Infatti come potete capire Possiamo impostare la regolazione del calore Quindi il flusso dell'aria E far sì che il capello venga lisciato Senza stressarlo Perché abbiamo delle temperature ma abbastanza basse Paragonate a una piastra classica per esempio Adesso c'è la modalità wet Che è quella che si utilizza quando abbiamo i capelli bagnati Umidi Successivamente invece abbiamo la modalità dry Che si è caratterizzata da due livelli di temperatura Che sono 120 e 140 gradi E quella può essere utilizzata O da capello asciutto Per dare un boost di luminosità al nostro capello Ma può essere utilizzata anche magari il giorno successivo O dei giorni successivi Se c'è qualche ciocca che noi magari abbiamo intenzione di riprendere Perché magari avendoci dormito su Abbia delle forme un po' irregolari Ecco quando ci svegliamo Successivamente abbiamo poi il pulsante di raffreddamento E poi abbiamo la ventola Che questa ci permette di Ovviamente regolare la velocità Alla quale andiamo a utilizzare la nostra piastra Anche in questo caso abbiamo il controllo intelligente del calore Come abbiamo visto nel Dyson Airwrap Che permette ovviamente di rispettare il capello Cercare di rovinarlo almeno possibile Specialmente chi come me ha un capello Prettamente decolorato deve fare attenzione Perché? Perché gli strumenti a caldo Oltre appunto alla decolorazione Tendono a far seccare A rovinare molto di più il capello Inoltre un'altra particolarità Che mi è piaciuta di questo prodotto È il fatto che non è necessario Utilizzare altri strumenti Cosa voglio dire? Per esempio se io penso a mia madre Mia madre è una persona che non sa usare spazzole phone Che quindi si troverebbe in difficoltà Nel lisciare i suoi capelli In questo caso invece è molto molto facile Perché basterà inserire la ciocca di capelli All'interno della nostra piastra E tirare verso il basso Per appunto lisciare perfettamente i nostri capelli Ancora più sicura rispetto a una piastra classica Perché? Perché c'è meno rischio di ustionarsi eccetera Perché molte volte capita Specialmente vicino alle orecchie O vicino all'attaccatura Quando asciughiamo magari una frangia Che il calore della piastra eccetera Possa essere molto molto alto In questo caso il getto dell'aria Può essere tranquillamente regolato Come vi ho detto in precedenza Ma soprattutto è molto più facile Non abbiamo proprio una lamina bollente Nella quale appunto abbiamo il rischio di farci male Ma semplicemente prendiamo il nostro capello E lisciamo Inoltre la piastra risulta molto molto leggera Non è particolarmente pesante Anzi Ovviamente so che siete super super curiosi Quindi vi lascio al video che ho realizzato con Carla In modo tale da farvi vedere Le potenzialità di questo prodotto E soprattutto vi faccio vedere Anche quanto è durata nel tempo La piega insieme con Carla Avrà effettivamente resistito nel tempo? Oppure no? Lo scopriamo ovviamente assieme E poi ci rivediamo assieme Per le conclusioni finali Eccoci nel tutorial che vi anticipavo Sul lato sinistro potete vedere i capelli già lisciati con il straight Sul lato destro i capelli ancora bagnati Pronti da lisciare Quelli li faremo assieme Ma soprattutto vi ho lasciato anche una clip Dei capelli naturali di Carla Sulla destra In modo tale che potete vedere quanto sono ricci Come prima cosa sono andato a dividere i capelli Successivamente ho impostato la piastra in modalità wet E sono andato a lisciare con una temperatura di 110 gradi Quindi una temperatura media Compresa appunto tra gli 80 che il minimo E i 140 che il massimo Come potete vedere già con la prima passata Il capello era lucido e liscio Però sono andato a farne una seconda In modo tale che fosse perfettamente asciutto Vi faccio vedere anche la lucentezza del capello da vicino E quanto ovviamente è stata anche lisciata bene la base del capello Successivamente ho proseguito in questo modo Su tutta la capigliatura Quello che mi piace di questo prodotto È che essendo molto largo Io posso prendere delle sezioni molto grandi Infatti a lisciare tutti i capelli Ho impiegato circa 15 minuti Tra una chiacchiera e l'altra Quindi mi permette non solo di lisciare Con una massimo due passate la stessa ciocca Ma soprattutto di fare delle sezioni molto grandi Quindi non è necessario fare tantissime divisioni E soprattutto molto minuziose Anzi Ci tengo anche a soffermarmi sull'asciugatura del ciuffo Che come potete vedere riporta già un boccolo bello definito E guardate come con una passata Della nostra Dyson Air Straight Sono riuscito a lisciarlo senza alcun problema Vi faccio vedere anche i capelli di Carla Una volta asciugati completamente Vi faccio vedere sia le clip all'interno Che le clip che abbiamo girato all'esterno In modo tale che possiate avere una visione più ampia Guardate come sono lucidi Ma soprattutto perfettamente lisci Ma soprattutto quanto sarà durata questa piega Vediamolo assieme Ma ci credi ancora non ho fatto lo shampoo Perché lo farò domani E sono ancora perfetti Cioè l'unica cosa che ho ritoccato è il ciuffo Perché più corto leggermente si arriccia Cioè ancora non l'ho ritoccato oggi Eccoci ritornati per le conclusioni finali Devo dire che questo prodotto a me ha stupito tantissimo Mi piace veramente 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 tanto Perché soprattutto per chi magari come Carla Ha dei capelli molto lunghi Ricci E che quindi devono essere necessariamente lavorati Perché altrimenti il capello Ritorna crespo e ritorna riccio È molto facile È molto facile e intuitivo Ovviamente l'unica tra virgolette pecca È che si può realizzare solamente un liscio Quindi per tutte quelle persone magari che vogliono Di tanto in tanto cambiare È necessario utilizzare uno strumento differente Appunto come Dyson Corral Però per tutte quelle persone che cercano un liscio naturale E soprattutto un liscio piatto Che non tende a gonfiarsi nel tempo Come avete visto in precedenza dalla recensione di Carla È veramente veramente uno strumento comodissimo E soprattutto permette di lisciare in pochissimo tempo Perché io considerate che ci ho messo circa Una decina di minuti a fare la piega a Carla Un 13 minuti 14 minuti E nel mentre stavamo anche chiacchierando Quindi una persona a casa ci metterebbe veramente veramente poco E può essere veramente un investimento a tutto tondo Per tutte quelle persone vi ripeto Che vogliono un liscio piatto Senza particolare volume Che vogliono eliminare il crespo Ma soprattutto che non vada a rovinare il capello Perché specialmente chi ha i capelli lunghi Una cosa che tende ovviamente a preservare È la lunghezza E quale metodo migliore Se non uno strumento con la temperatura regolabile Soprattutto che ti permette di avere i capelli sempre lisci Sempre in ordine Io ovviamente sono impazzito quando l'ho vista Perché in America è uscita già un annetto fa Non vedevo l'ora Vi giuro che arrivassi in Italia E per chi non lo sapesse Invece in Asia La sponsor è Jenny delle Blackpink Io ovviamente felicissimo di questa collaborazione Siamo arrivati al termine di questo video Ovviamente fatemi sapere che cosa ne pensate Se questo prodotto vi ispira oppure no Potete sempre andarlo a provare Per esempio negli store Dyson Senza alcun tipo di problema Io come al solito vi lascio il link qua sotto Potete andare a dare uno sguardo sul sito A farvi un'idea del prodotto E poi ovviamente valutare Se acquistarlo oppure no Se provarlo eccetera Io vi consiglio assolutamente di prenderlo Se siete delle persone che lisciano i capelli ogni giorno Se volete metterci poco Se volete che la piega vi duri E soprattutto che non si gonfi anche poi con Nel tempo Perché è veramente veramente uno strumento ottimo Detto questo io vi saluto E ci vediamo al prossimo video Ciao